eccoci qui ragazzi tra poco in diretta mondiale su radiogamma 5.it dalle ore 12 alle ore 15 anzi dalle ore 12 e un secondo alle ore 14 59 primi e 59 secondi scusate i miei capelli osceni vi aspettiamo quindi per tre ore in compagnia in diretta mondiale su www.radiogamma5.it in streaming audio anche dal nostro sito ufficiale all'indirizzo www.radiogamma5.it se volete scriverci potete farlo via sms al 334 710 2672 oppure potete anche contattarci via whatsapp al numero 349 7267 647 se volete chiamarci ai numeri di telefonia fissa 049 700 700 049 700 838 scusate e niente dalle 18 in poi invece vi aspettiamo per un aperitivo in musica scusate oggi continuo a sbagliarmi a parlare dalle 18 in poi a san giorgio in bosco in provincia di padova in via valsugana 332 a al gio di caffè con samuela e tutto il suo staff ingresso completamente libero e gratuito per tutti musica e divertimento dalle ore 18 san giorgio in bosco ma prima dalle 12 alle 15 amore radio show numero 753 con lorenzo speed come vedete scritto qui e ospiti oggi per l'occasione in studio i we are not alone non siamo soli a tra poco su radiogamma 5 vi aspettiamo dalle ore 12 sintonizzatevi www.radiogamma5.it pollice verso l'alto www.radiogamma5.it pollice verso l'alto